Ciao a tutti, sono Federico Albanese, ho 29 anni e sono di Milano. Suono il pianoforte da quando ero bambino e poi ho coltivato la passione per la musica con lo studio del pianoforte e anche quello di altri strumenti, finché non è diventato un mestiere per me. Mi fa molto piacere il dia di partecipare a questa iniziativa di Piano City e di accogliere una ventina di persone in questa casa, il luogo dove per me è iniziato tutto, ho mostrato i primi passi su questo pianoforte. Eseguirò dei brani che ho scritto negli ultimi anni, che sono stati per me degli anni di grande svolto, di grande cambiamento e mi piacerebbe portare gli avventori, gli ascoltatori che verranno qui all'interno di un percorso che io ho fatto negli anni nella musica classica contemporanea. Vi aspetto, ciao ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!